Nuova squadra campione qui in reazione a catena, le mamme nella media. Partiamo da Fiamma. C.A. Il finale e il terzo elemento. Allora, Fiamma. Mi veniva viva la fiamma con il fuoco. La fiamma viva, la fiamma con il cammino. Però i cammini. Cammini. La cena, la cena, la cena, la cammino. Cartone, la carta, i cartoni, accendevi la fiamma. Una fiamma può essere una vecchia fiamma, quindi legata a un vecchio amore. Caldi, fiamma può essere anche calda, quindi caldi. Caldi, ma non con fiamma. I calori. I calori. I canguri, ma con fiamma. No. La fiamma. Fiamma. Eh, fiamma mi vengono in mente termosifo. Caloriferi. Caloriferi. Caloriferi potrebbe, però con fiamma, sì, perché fa caldo. Semplicemente per quello. Non so, con fiamma non so. Sì, quando ti vesti con le cose. Quando è che ti infiammi per qualcosa? Ti infiammi per il calcio, per qualcosa. Però fiamma, no? Sarebbe infiammarsi. No, non mi viene questa cosa qua. Prendiamo. Allora, è arrivato il gong. Momento di decidere se acquistare il terzo elemento o provare subito. No, acquistiamo il terzo elemento. Allora, dimensiamo. Restano 9.000 euro. Scopriamo il terzo elemento. Due. Due. Due calci. Due calci. Due calci. Ma con la fiamma. Calci. Calici. Calici no. Calici no. Calor. Canti. Canti. Con la fiamma. Che abbia collegamento con la fiamma. C'è un modo di dire. Eh, può essere. Due calci, due male con le fiamme. Cosa c'è? Cosa possiamo pensare di dire? Camini no. Fiamma ardente. No, non ci sta in questo. Cansoni no. Camini. Io proprio di camini. Camini. Non ne sono sicura di questo. O calcio. La fiamma. La fiamma. Del calcio. Un giocatore. No, con due potrebbe essere due camini, due calci. Due cancelli. Due cancelli. Il problema è fiamma, che io non riesco a collegare. No. Però ascolta, caloriferi si ha a che fare con la fiamma. Eh, ma con due? Eh, con due potrebbero essere due caloriferi, per dire. Allora, ci siamo, Barbara. Camini. Quale parola vi giocate? Noi proviamo camini. Togliete pure le cuffie. Adesso mi spieghi come le reghiamo, soprattutto con due. Due camini, posso esserci due camini in una stanza. Due camini in una stanza? O in due piani, insomma. Avere in una casa due camini. E con fiamma? La fiamma è nel camino, arde nel camino. Questa potrebbe essere la nostra spiegazione. Allora, andiamo a scoprire l'ultima parola di stasera. Che vale 9.000 euro. Carbono. E che lega fiamma e due. E camini? No. Carabinieri. E' vero. Fiamma di Fiamma. Bravissima. E' firma. La fiamma sul cappetto dei Carabinieri e vanno sempre in due. Sempre in due.